Straordinaria esperienza, assolutamente diversa dal solito, diversa da tutti i convegni che facciamo in giro per le nostre città e anche quando andiamo all'estero. Penso che sia una cosa stimolantissima soprattutto per le generazioni a venire, che sono generazioni che da questi incontri prendono spunto per cercare di vedere il futuro nella maniera più possibile. Grazie.